Salve, scusate la voce è la mia, che poi lo so che in effetti più che una voce sembra il verso di un delfino, me ne rendo conto, cosa che però va anche detta, i delfini sono anche noti per essere degli animali piuttosto intelligenti, no? Dico bene, peccato che io dai delfini ho preso soltanto la voce e non l'intelligenza, perché a quest'ora se fossi intelligente starei saltando nei cerchi in una piscina, no? Quindi invece sono qui perché sono stupido. Salve, buonasera a tutti, io sono Saverio Raimondo, hanno detto bene, Saverio il nome è Raimondo il cognome, o viceversa, lato estivo e lato invernale come i materassi, adesso è autunno, oggi non molto, ma insomma tra pochi giorni farà più fresco, quindi Saverio Raimondo è più caldo e faccio il comico, ma non faccio molto ridere, di solito il pubblico che ride ha le mie battute perché è ipocrita o è falso o è isterico o molto educato, però d'altronde voi vi rendete conto che con il fisico che mi ritrovo solo due cose potevo farne la vita, o il comico o il nano nei film porno. Ho sbagliato tutto ed eccoci qui. faccio il comico, dicevo, ma non faccio ridere, il che però se ci pensate buffo, no? Comico che non fa ridere, però solo se ci pensate, e mi sembra di chiedervi un po' troppo così andata anche se siete a fine giornata, voi vi starete chiedendo come mai uno cominci in qualche modo a fare questa, intraprendere insomma un percorso all'interno della comicità a parte appunto la predisposizione fisica. Beh vedete, la prima volta che dissi ai miei genitori che avrei fatto il comico mi risero in faccia, l'ho presi come un incoraggiamento, no? Testualmente quando dissi a mio padre, papà voglio fare il comico, lui mi ha risposto non farmi ridere. E che i genitori sono strani, no? Non so voi quando gli avete detto mamma, papà, voglio andare alla Holden a scrivere come hanno reagito, cioè i genitori sono strani, no? Pensate che io da bambino ero convinto che i genitori li portasse alla cicogna, pensate. Solo poi ho scoperto invece che i genitori nascono perché i nonni fanno sesso. Che schifo, no? E pensate che da bambino credevo addirittura che esistesse Woody Allen. Pensate come ero ingenuo. Davvero, tutti gli anni gli scrivevo una letterina, caro Woody Allen, anche quest'anno vorrei una commedia romantica ambientata a Manhattan, combattute sulle nevrosi metropolitane, la paura della morte, gli ebrei newyorkesi. Pensate come ci sono rimasto quando poi ho scoperto che Woody Allen non esiste ed erano i miei genitori che si travestivano ogni anno e facevano un film. Non ricordo ancora, avevo dieci anni, mia madre mi prende in un angolo con mio padre, mi fa Saverio. Dobbiamo dire una cosa, ormai sei grande. Woody Allen non esiste, sia mio papà, eh? Ora, a questo punto vi starete chiedendo, ma perché diavolo la Holden ha invitato a parlare questo nano qui? E guardate che anche la scuola Holden in questo momento se lo sta domandando, ma perché l'avevamo invitato? Dunque, la ragione, credo, credo, rientri, probabilmente il motivo è errore umano, avete capito? L'errore umano, io credo di essere un errore umano da parte della Holden. Oppure l'altra motivazione possibile, l'unico motivo per cui mi spiego, è che faccio il comico, cioè sarei un comico, ma soprattutto sarei un comico satirico. Ora, accennavano prima i colleghi qual è la differenza fra comicità e satira. La comicità è scivolare su una buccia di banana, la satira invece è scivolare su un preservativo usato. Fanno ridere entrambe, ma nel secondo caso fa più schifo. Ecco, questa è la satira. Ora, spesso se ne parla, no? Ecco probabilmente perché sono qui questa sera, si parla spesso della satira, che cos'è, quali sono i suoi limiti, a cosa serve. Allora, prima di tutto facciamo un po' di storia, visto anche il contesto vagamente accademico, diamoci un tono. Allora, satira voi lo sapete, viene dal latino, satura l'anx, che era questo piatto ricco di primizie offerta l'idea, è una sorta di fritto misto, no? E non c'è da stupirsi che la satira, questo genere così adulto, così controverso, abbia avuto un nome, gli sia stato dato un nome dai latini, che come voi sapete hanno dato anche un sacco di nomi a un sacco di pratiche sessuali, no? Coitus, cunilingus, fellatio, milf. Milf è latino. Milf, milfis, terza situazione. Nominativo, milf, la milf. Genitivo, milfis, della milfis, le tette della milfis. Dativo, milfi, sono venuto in faccia alla milfi. Accusativo, milfem, complemento oggetto, scopato, chi, che cosa, una milfem. Vocativo, milf, o milf, che è probabilmente il caso più usato, no? L'invocazione della milf. E poi l'ablativo, milfe, che ha doppia valenza, sia come complemento di causa, ho preso lo scolo a causa di una milfe, o come complemento di mezzo, ho perso la verginità per mezzo di una milfe. Abbiamo fatto anche un rapido ripasso del latino per darci un tono accademico. Ma la satira, nonostante mi prenda il nome dai latini, mi è più antica. Ci sono tracce di satira già pensate nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Quando Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo unico figlio, il suo nome, Abramo porta il figlio in cima alla montagna, si vede già la differenza tra la religione ebraica e la religione cattolica, perché se fosse stato il dio dei cristiani, il bambino l'avrebbe ucciso, l'avrebbe inculato. E allora, dunque, dicevamo, Abramo porta il bambino in cima alla montagna, sta per ammazzarlo, quando Dio lo ferma, gli fa, Abramo, ma cosa fai? Non dicevo mica sul serio, stavo scherzando, al che Abramo giustamente si infuria e dice a Dio, ma come? Come puoi scherzare sulla morte per giunta violenta del mio unico figlio? E Dio gli risponde, è satira. Giuro. È scritto così. Non ci credevo nemmeno io, l'ho tradotto personalmente all'aramaico antico con Google Translate e dice questo. In realtà, però, la satira ha origini ancora più antiche. La satira nasce in Mesopotamia, fra il Tigri e l'Eufrate. Probabilmente i primi a fare satira furono i sumeri o i babilonesi, o più probabilmente i sumeri facevano satira sui babilonesi e viceversa. Ora, si trattava di popolazioni prevalentemente dedicate alla pastorizia, quindi le prime persone che fecero satira la impiegarono per pascolare le greggi, con il risultato che il bestiame si disperse e nessuno rise. Quindi, sin dall'inizio, la satira è controversa e i caproni si alzano e se ne vanno. Le prime forme di satira, forme di satira rudimentali, in terracotta e in argilla, solo poi si passò a una satira cuneiforme con battute sull'agricoltura e su Amurabi. Notate come ancora oggi le battute su Amurabi funzionino. Poi, finalmente, la satira proda nella culla dell'Ellade, nell'antica Grecia, dove fiorì la satira religiosa, già che c'erano così tanti dei con i quali prendersela, e poi, con l'arrivo della democrazia atteniese, nacque la satira politica. E quindi c'erano questi satirici che si aggiravano per la polis, prevalentemente dei peripatetici, che sciorinavano battute sui politici, sul governo, sulla guerra fratene e sparta, oltre che i primi doppi sensi sul cavallo di Troia. Ora, si venne così a creare la prima distinzione fra satiri e satirici. Il satiro è una creatura metà uomo e metà animale interessato soltanto a bere, mangiare e scopare. Il satirico anche, però, si dà un tono, nonostante portasse i sandali, perché all'epoca. Fra questi autori satirici greci, ovviamente, spiccò, e ci resti in realtà ancora oggi, Aristofane, il quale fu il primo a fare satira di denuncia. Nelle sue commedie satiriche, Aristofane fece denuncia e perché, il perché Aristofane impiegasse la satira come strumento di denuncia, è spiegabile dal fatto che all'epoca non c'erano i carabinieri, a cui rivolgersi per fare una denuncia. Se, è grazie alla non esistenza dei carabinieri che nasce la satira. Se ci fossero stati da sempre i carabinieri, la satira non sarebbe mai nata. Poi, nel mondo latino, la satira conosce una nuova fioritura. La satira era in grande voga nell'antica Roma, pensate che c'erano gladiatori satirici, gare di satira sulle bighe, e con l'arrivo dei primi cristiani a Roma ci furono anche i primi spettacoli di satira religiosa fatta dai leoni, Colosseo. All'epoca, ricordiamo, insomma, come satirici, all'epoca Orazio, Lucilio, Nerone, i leoni, appunto, ma anche Aulo Persio Flacco, il quale sapeva fare benissimo l'imitazione del cavallo. Quando Caligola fece senatore un cavallo, lui fu il primo a fare l'imitazione di un politico. Poi, con il medioevo, i giullari introdussero il tema escatologico all'interno della satira, scelta curiosa, visto che si trovavano a parlare di merda durante i banchetti di fronte a gente che mangiava. Perché i giullari lo facevano? Perché così fidelizzavano il pubblico, perché quando il re avrebbe poi defecato ciò che aveva mangiato durante il banchetto, nel guardare le feci si sarebbe ricordato delle battute del giullare, e avrebbe riso di nuovo o l'avrebbe fatto decapitare. Poi ci fu il rinascimento, quindi erano tutti troppo presi dalle belle arti per ridere di cacca, pupù, cazzo, ficca, culo, quella roba lì. Poi con l'illuminismo, invece, gli illuministi furono convinti che la satira fosse uno strumento per aprire le menti, smuovere le coscienze, trasmettere conoscenze. Pensate che Voltaire una volta impiegò la satira per cuocersi un uovo, pensate. Ma fu tale questa considerazione che gli illuministi diedero alla satira che finirono addirittura con dare vita una sorta di fanatismo satirico e quindi un saggio socio-economico molto serio, molto preciso, come una modesta proposta di Jonathan Swift, dove l'autore teorizza e argomenta con precisione che per sconfiggere la piaga dei bambini poveri bisogna mangiarceli, venne scambiato per ironico e quindi per una satira. Poi con l'avvento dei totalitarismi del Novecento abbiamo la persecuzione dei comici satirici insieme a ebrei, omosessuali, zingari, dissidenti politici, chiunque, finché con l'avvento invece della libertà d'espressione la satira diventa un mezzo di largo consumo, come le creme solari, ed oggi il dibattito sulla satira ha sostituito la satira, anche perché fa molto più ridere il dibattito sulla satira della satira stessa. Dunque a cosa serve la satira? A niente. Il grande dittatore non ha fermato Hitler, l'isistrata di Aristofane non ha portato la pace nel mondo, il dottor stranamore di Kubrick non ha fermato la corsa agli armamenti. La satira non serve a niente. Allora perché un comico satirico fa satira? Per essere censurato. Ricordatevelo sempre, se il vostro obiettivo è fare nella vostra vita scrittura satirica, il vostro obiettivo è quello di essere censurato. Ma come? La satira non è libera? Certo! La satira è libera, ma non deve esserlo! Ma siamo pazzi! Ma io non so che farmene della libertà d'espressione, che me ne faccio io? Mentre invece la censura è importante. Guardate che nell'ambiente satirico in Italia se non ti censurano non sei nessuno. I satirici nello spogliatoio sotto la doccia invece che il pisello si misurano le querele e se non ne hai abbastanza fanno battute sul tuo pisello. La censura in Italia per un comico satirico è un bollino di qualità, un marchio c'è a testa che non contieni o GM né olio di palma solo se sei stato censurato se sei un comico di pura razza lana! Dunque io ho ben poco da insegnarvi, benché meno come ci si veste, ma stronzi, 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 siete vestiti bene voi. Se non una cosa, se nella vostra vita volete intraprendere la scrittura satirica fatevi censurare! Ve lo sto dicendo da persona fallita perché nonostante i ripetuti tentativi io non sono mai riuscito a farmi censurare. Peggio, sono stato addirittura invitato a parlare alla scuola Olden, ma che cazzo! Ma dove ho sbagliato? Voglio raccontarvi i miei fallimenti. Come sapete il fallimento è importante, è sempre un insegnamento, cazzate meglio il successo, però in qualche modo no? Io ho provato a farmi censurare e ci sono andato vicino due volte, veramente, però purtroppo. La prima volta, la prima volta è stato qualche anno fa, un po' di anni fa ormai, era la prima volta che facevo, che partecipavo a una trasmissione televisiva su una tv generalista, Rai 2, seconda serata di Rai 2. Il programma era brutto, però la prima volta che ti propongo di fare la televisione accetti anche un programma brutto perché è così, no? La prima volta fa male, poi le successive è meglio. Funziona così in tutto, anche nella televisione. Il programma si intitolava, vero eh? Potreste cercarlo sugli archivi della Rai se non fosse, credo l'abbiano bruciato, giustamente. Il programma si chiamava Stiamo Tutti Bene, titolo col senno di poi beffardamente ironico. Seconda serata di Rai 2, conduceva Belen Rodriguez. Voi mi vedete così, ma io ho lavorato con Belen Rodriguez. Il programma era bruttissimo, non solo perché c'ero io nel cast, ma vi faccio un esempio, un esempio solo di quanto quel programma fosse brutto. Quel programma aveva un corpo di ballerine e le ballerine avevano la cellulite, ballerine con la cellulite pagate con i soldi del canone, soldi pubblici, che voglio dire sei la Rai, la radio televisione italiana, dovresti avere della figa esemplare. I bambini ti guardano la casa e tu li fai vedere della figa con le cellulite. All'interno di questo bruttissimo programma televisivo con la cellulite, io portai serializzato all'interno del, mi pare fosse sei, otto puntato, non mi ricordo più, portai serializzato il mio monologo, che parte da una semplice considerazione. Un fatto, un dato. E cioè che in Italia un crimine su tre è commesso da immigrati. Uno su tre. Dati del Viminale. Vi rendete conto? Uno su tre. Ma gli altri due? E allora noi possiamo anche cacciare tutti questi rumeni e ributtare al mare tutti questi zingari albanesi negri dell'Isis. Ma non saremo mai al sicuro finché non avremo cacciato da questo paese anche la comunità italiana. Gli italiani hanno invaso il paese, sono dappertutto. Per le strade, ai semafori, sui mezzi pubblici, c'è uno schifo. Sembra di stare a Little Italy. Cazzo applaudite, siete italiani. Sembra di stare a Little Italy, con l'aggravante che è più grande, Big Little Italy. Siamo il paese con la più grande comunità italiana nel mondo. No! Tutti qui stanno! E così via. Questo mio monologo, se poi lo volete sentire tutto venito al mio spettacolo, pagate, ve lo faccio. Questo mio monologo parte da questa premessa e arriva fino alle sue estreme conseguenze. All'interno di questo monologo, ad un certo punto, io dicevo e dico, ancora oggi, la seguente battuta. Fateci caso. Obama, Hollande, la Merkel, all'estero, i capi di Stato, sono tutti stranieri. Solo in Italia il premier è italiano. Siamo un'anomalia! Siamo un'anomalia! Mi si avvicina il capostruttura di Rei 2, dopo le prove, in cui appunto ho provato anche questa battuta, e mi dice questa cosa che il premier in Italia è italiano, non si può dire. Giuro! Non l'ho potuto dire! Perché all'epoca il premier era Berlusconi. Giuro! Ora, io sapevo che non si potesse dire che Berlusconi è mafioso, io sapevo che non si potesse dire che Berlusconi è pidduista, io sapevo che all'epoca ancora non si potesse dire che Berlusconi è un puttaniere, ma che addirittura non si potesse dire che Berlusconi è italiano! Beh, io giuro, questo non lo sapevo! Però sai che c'è? 1 a 0 per il censore. Ha vinto lui! Non solo perché effettivamente io non ho potuto dire su Rei 2 che in Italia il premier è italiano, ma perché effettivamente la sua censura era molto più divertente della mia battuta. Mi ha battuto! Mi ha battuto! Un punto per lui! Un applauso al censore! Bravo! Bravo! Fai ridere! Bravo! Bravo! E poi l'altra volta che sono arrivato, vicino, quasi al traguardo con la censura, quella proprio che ti buttano via, non ti tagliano la battuta, ti cacciano fuori, è stato quando due anni fa, la RAI mi ha chiesto di condurre il Dopo Festival di Sanremo solo sul web. La RAI improvvisamente mi è partito un embolo, ha detto, facciamo un programma solo sul web, il Dopo Festival lo facciamo sul web e deve funzionare. Quindi mi chiamano. Ora, lo vedete, quello che faccio, quello che dico, come mi esprimo, no? Quindi, se mi chiami, lo sai, mi dici, andiamo a fare una cosa che sul web funziona. Andiamo in onda, o meglio in streaming, dopo la mezzanotte, solo sul web, no televisione, solo sul web dopo la mezzanotte, sul sito della RAI, dove la diretta streaming sul sito della RAI si chiama Buffering. Quindi io mi ritrovo, io accetto, mi sembra, no? Divertente, il Dopo Festival di Sanremo, divertente, poi contemporaneo, capito, sul web, molto bene. Allora io quella sera, dopo la prima puntata del Festival di Sanremo, nella prima era Carlo Conti, il primo anno di Carlo Conti, io mi ritrovo in streaming, o meglio, in buffering, sul sito della RAI, ma poi sul sito della RAI non ho piazzato bene, ma tipo nascosto fra 300 e 500, doveva essere un hacker russo per riuscire a raggiungere la diretta di questo Dopo Festival, dopo la mezzanotte, solo sul web, ok? D'accordo? Mi ritrovo lì, sul palco del Casinò di Sanremo e sullo stesso palco dove Nunzio Filogamo disse, cari amici, vicini e lontani, buonasera. Io dissi, siamo il primo programma della RAI sul web, la nostra concorrenza, a maggior ragione a quest'ora, oltre alla mezzanotte, sono i siti porno, per noi sarà difficile fare di meglio dello squirt, ma ci proveremo. Esatto, esatto, esatto. Proprio così. Non solo il Casinò di Sanremo, 92 minuti d'applausi, ma sul web, dove, come sapete, ti danno dello stronzo alle 7 di mattina su Twitter, quindi figurati, a mezzanotte, tutti si... ma gente che è uscita di casa la notte in pigiama corsa alla posta a pagare il canone! Ma ragazzini! Squirt è entrato in Trend Topic, assieme però anche all'hashtag ufficiale dopo Festival, quindi bene, bomba! La RAI ha fatto numeri da capogiro, quattro volte le entrate pubblicitarie di quelle che si erano prefissate. Andarmi tutti a dire bello, bravi! Il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, non il direttore di Rolling Stone, non il direttore di Playboy, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni che lo leggeva mia nonna, che adesso è morta e non escludo che lo legga comunque, anche se è morta! Il direttore di TV Sorrisi e Canzoni si alza in conferenza stampa e dice ho visto il Dopo Festival l'altra sera, ma è bellissimo, psichedelico! Perché non lo mandate in TV? Cioè, secondo il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, io che dicevo Squirt, poteva anche tranquillamente andare in in TV, però non andavamo in TV, andavamo solo sul web, quindi capirai, no? Tana libera tutti! Il mattino dopo vedono questi dati alla RAI, dati dello streaming pazzeschi e quindi si ricordano, ah già ma noi facciamo un Dopo Festival sul web, è vero! Ma qui è andato bene, chiede il direttore di RAI 1, l'allora direttore di RAI 1 nei corridoi della sala stampa dell'Ariston a Sanremo. E un nozzelante funzionario RAI risponde all'allora direttore RAI 1, sì direttore dopo Festival è andato molto bene in termini anche di sentiment sulla rete, però direttore è stato usato un linguaggio non propriamente RAI. Questo racconto mi è stato riferito da fonte attendibile, al che il direttore di RAI 1 chiede perché, che cosa è stato detto? E questo zelante funzionario RAI riferisce all'allora direttore di RAI 1, beh vede direttore è stata usata la parola squirt, e l'allora direttore di RAI 1 chiede e che cos'è lo squirt? Nel 2015. Ora, capisco il ritardo nell'arrivo della banda larga in questo paese, ma persino alla scuola Holden che è un covo, voi mi insegnate di intellettuali, sappiamo tutti che cos'è lo squirt. Quest'uomo non sapeva cosa fosse lo squirt e dirigeva RAI 1, il che però retrospettivamente spiega tutta una serie di scelte palissestuali, soprattutto Don Matteo. È chiaro che fai Don Matteo se non sai cos'è lo squirt, è chiaro, poi ti si apre un mondo. Ma la cosa esilarante è che in quella mattina di febbraio, nei corridoi della sala stampa del teatro Ariston in Sanremo, uno zelante funzionario RAI ha dovuto spiegare all'allora direttore di RAI 1, che cos'è lo squirt? Probabilmente ricorrendo a delle diapositive, no? Metodo RAI. Che a saperlo? Venivo io a spiegarglielo. Già che sono abituato dal vivo a confrontarmi anche con un pubblico non alfabetizzato digitalmente, a cui quindi spiego che lo squirt è un orgasmo liquido vaginale, è un'eiaculazione vaginale e quando spruzza anche lei, non soltanto lui, è tipo un bidet soltanto che all'incontrario, infatti i francesi non ce l'hanno lo squirt? Non ce l'hanno? Non ce l'hanno? Tu vai a Parigi e non ce l'hanno lo squirt? Beh vabbè, ovviamente sono state dette anche altre cose, nel senso che voi vi ricorderete la prima puntata di quel Sanremo, no? Il primo Sanremo di Carlo Conti, la prima puntata, ci fu ospite, la famiglia Anania, la famiglia più numerosa d'Italia, 17 figli, che come noi tutti sappiamo il collasso del pianeta è dovuto al sovraffollamento del pianeta, quindi la famiglia Anania è causa del collasso del pianeta, noi invece a celebrarla. Poi, altra nota, no? Così non per fare, ma per carità, vedete sono un imbecille, ci mancherà, però perché abbiamo dovuto invitare la famiglia più numerosa d'Italia? Abbiamo dovuto invitarla in quanto famiglia più numerosa d'Italia, cioè questa donna, la signora Anania, è stata trattata come un fenomeno da baraccone, signori e signori, la donna sputa figli, perché questo, riduci, riduci, è il valore, perché se il valore fosse la famiglia, non conta che sia una famiglia numerosa, basta che sei una famiglia e è già il valore della famiglia, no? Quello che interessava Raiuno era il fenomeno da baraccone, la figa sputa figli, po 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 po! Allora, mi sono sentito di commentare a mezzanotte, sul web, ho detto, famiglia Anania, la famiglia più numerosa d'Italia, ben 17 figli, si vede che a casa Anania non conoscono il sesso anale, ci sta, elegante poi, beh, no no, scusate, rivendico il fatto che ho usato il termine sesso anale, non ho detto, ah si vede che a casa Anania non si incula, no 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 no, c'è una scelta lessicale ben precisa, voi che lavorate con le parole, con la scrittura, mi insegnate che la parola sposta significa, la scelta lessicale non era a caso, e poi mi sono permesso così, per un rigurgito civico, per carità non sono certo un buon cittadino, però per un rigurgito civico mi sono sentito di dire, visto che ho trovato questa parata di corpi umani abbastanza disgustosa, mi sono sentito così, di dire, e comunque voglio ricordare che in Italia, oltre alla famiglia Anania, esiste anche l'aborto, mi sono sentito di dirlo, rigurgito civico così, ma per ricordarci che no, che esistono, che ognuno ha la sua storia. Ora, non lo so, il fatto sta che il giovedì, quindi dopo la seconda puntata del Dopofestival, il Dopofestival è completamente sparito dal sito live, alle tre del pomeriggio è sparito, anche sul web, spontaneamente, da Twitter, ma anche sulle varie testate giornalistiche, da repubblica.it, alfatto.it, eccetera, tutti hanno cominciato a chiedere sì, ma che fine ha fatto il Dopofest? Perché, siccome c'era una certa attenzione, proprio perché riscuoteva immeritatamente, che vi posso dire, ma un certo seguito, tutti hanno chiesto che fine ha fatto, che cos'è, molti hanno parlato di censura, poi alle sette è tornato tutto online, l'area ha detto, ah no, no, scusate, scusate, errore tecnico. Ora, siccome si è parlato molti a lungo del fatto, in realtà, si è trattato di censura, ci hanno provato, da persona testimone dei fatti, che quelle ore le ho vissute da dentro, posso dirvi che no, purtroppo, non è stata censura. È stato un errore tecnico, un errore tecnico ben preciso, ha proprio un linguaggio in termini informatici. Si chiama errore tecnico, un par di palle. 40 giorni dopo questo Dopofestival nel sito della RAI, in Commissione Vigilanza della RAI arriva una lettera firmata dal Senatore della Repubblica, Maurizio Gasparri, nel quale l'Onorevole della Gasparri chiede alla RAI se l'azienda intende prendere dei provvedimenti nei miei confronti, già che io ho parlato di aborto e quindi ho fatto apologia di reato. Il Senatore della Repubblica Italiana ignora che in Italia l'aborto non è reato, ma è regolamentato per legge da qualche anno. Oppure, ha ragione l'Onorevole Gasparri, allora benvenuti in Iran, grazie. Vi ringrazio. Come avrete capito non era esattamente un intervento accademico tradizionale, però vi ho detto discrete verità. Collaborerò, ho già avuto modo di metterci uno zampino, ma collaborerò quest'anno con il College di Televisione. Non so se ci sono delle domande, se volete vi rispiego anche che cos'è lo squirt, per quelli di Coccio, i quali però sono destinati alla direzione di RAI 1, quindi comunque, voglio dire, gli ultimi saranno i primi. Ecco, però, di là di questo appunto intervento poco tradizionale, non so se ci sono, non so, quali particolari curiosità da rivolgere a una persona che effettivamente questo fa di lavoro e questo gli è successo. Vi ho ammutoliti. No, chi è? Indicano, indicano lui. No, lui. Lui, scusami. Essendo basso, tendo a guardare in alto, quindi. Ciao. Io volevo chiederti se trovi maggiormente pornografico il festival di Sanremo o il canale Squirter di YouPorn. Allora, ti ringrazio per questa domanda. Dunque, il punto è questo, ma spesso e volentieri noi usiamo pornografico in senso dispregiativo. Ora, io sono nato nel 1984, quindi ho vissuto un'età strana, cioè all'inizio delle mie prime polluzioni non c'era ancora stato l'avvento di internet in Italia. Quindi ho fatto proprio un passaggio dalla masturbazione analogica a quella digitale. Un adolescente oggi mi nasce masturbatore digitale, mentre invece io sono passato all'analogico e al digitale, quindi mi ricordo ancora come erano. Usavi sempre la mano, però devo dire che, come avrete anche capito dal mio modo di esprimermi, ritengo che oggi come oggi un discorso contemporaneo, a maggior ragione, un discorso satirico che non si è mai fatto remore o problemi di determinati aspetti, debba fare i conti con quello che è l'immaginario pornografico. Perché ritengo che una delle note di quest'epoca è veramente l'immaginario pornografico condiviso che abbiamo tutti. E nell'immaginario pornografico non c'è solo la categoria squirt, ma anche la categoria Sanremo. Perché come sapete esiste la regola 44 di internet, potrei sbagliarmi, che dice che se una cosa esiste al mondo ha la sua categoria porno. La grande democratizzazione della rete della pornografia ha fatto sì che ciascuna persona qui dentro, ma anche ciascuna persona lì fuori, sono rappresentanti di una categoria porno. Pensate a me, nani. O vestiti male, esiste anche la categoria porno vestiti male, gente a cui piace vedere, gente vestita male che si accoppia. Tutto è pornografia, tutto è esplicito. Sanremo è pornografia, ma come lo sono io, come lo sei tu, come lo siamo tutti. Viva la pornografia. Grazie. Ho formulato questo discorso anche in altre parole, già che qui si dà importanza alle parole. E cioè come dico spesso nei miei spettacoli, la cosa che mi dà più fastidio è l'ipocrisia di vietare il porno ai minori di 18 anni, quando un bambino appena viene al mondo, la prima cosa che vede è sua madre con le gambe spalancate, circondata da un gruppo di uomini, una gangbang, cazzo, e il padre la figura genitoriale forte che filma tutto e sviene in un angolo. Se non è pornografia venire al mondo, ragazzi. Il parto è porno, è un fisting al contrario. Vagli a spiegare all'ex direttore di Iuno che cosa è il fisting. domande. Prego, pure qui, vado lì poi vengo qui. Allora io mi volevo rifare a una serie tv italiana, no? Esatto, no. Volevo chiederti se nella tv pubblica, quindi non a pagamento non a Sky, non a cose del genere, un'altra tv rispetto a questo standard un po' trash che abbiamo, se è possibile veramente un'altra televisione, tu che... Esatto, bravo. Ti ringrazio per la domanda. Dunque, allora, il problema è questo, che l'altra tv già esiste, cioè oggi come oggi, ma quanti fra voi qui guardano la televisione nel senso classico del termine. Io non mi faccio più dettare gli orari dalla televisione. Io mi ricordo da bambino il martedì sera alle nove, ma ero bambino, guardavo il Pippo Kennedy Show, l'ottavo nano. Se oggi rifanno un programma del genere, io difficilmente sto a casa a guardarlo. Il giorno dopo, semmai, vado in rete a guardarmelo e forse nemmeno tutto, ma dei pezzi. La tv, nel senso tradizionale del termine, si rivolge esclusivamente ad un pubblico, come dire, anagraficamente diverso, adulto, molto adulto, e neanche a tutti, perché poi c'è gente adulta che però invece, come dire, usa le nuove opportunità e fruisce dell'audiovisivo diversamente. Ora, il problema è chi la deve fare, quest'altra tv, perché la RAI non sembrerebbe al momento particolarmente interessata, perché sì, prendono i fenomeni di YouTube, ma invece che farli funzionare lì dove funzionano e investire sul loro terreno, gli dicono, vieni in televisione, distruggendoli, perché il pubblico di YouTube non cambierà mai le sue abitudini andando a vedere il suo YouTuber su RAI 2 alle 13, ovviamente no, stai sbagliando tutto. Per quanto mi riguarda, ripeto, mi sono trovato, oserei dire davvero, credetemi, in maniera del tutto involontaria a fare successo con quel dopo festival, che ha effettivamente fatto quattro volte la raccolta pubblicitaria che si erano prefissati, ma gli unici che ci hanno ringraziato da parte dell'azienda è stata appunto RAI Pubblicità. Il resto dell'azienda ha deciso che quell'esperimento riuscito, proprio perché riuscito non si doveva più fare. Ma quale azienda sana ragionerebbe in questo modo? Oserei dire nessuna, se parliamo di aziende sane. Quindi l'altra tv in realtà esiste, il problema è chi la vuole fare nel senso chi ci mette i soldi, perché ripeto, la tv in quel senso classico lì è morta, nel senso c'è chi la guarda, però ovviamente chi la guarda e quindi ha ancora quel tipo di abitudini, eccetera, gli devi dare un certo tipo di contenuto. Io non chiedo a RAI 1 di cambiare, RAI 1 ha un certo tipo di pubblico, gli deve dare quello che quel pubblico richiede. Però, constato il fatto che c'è tutta un'altra parte di pubblico, direi che anagraficamente, socialmente, culturalmente siamo una valida rappresentanza statistica qui, che è completamente trascurata le medie tradizionali, i quali hanno deciso che no, che con noi, non voglio fare un discorso generazionale che mi viene già l'orticaria, ma non ci parlano. Con noi non ci parlano. Chi parlerà con noi? Parleremo da soli. Prego. Grazie Maria. Mi è capitato di vedere altri comici che fanno stand-up, tipo Louis C.K., Ricky Gervais, eccetera. Solo i comici americani o comunque di altre nazioni possono scherzare su bambini morti o infibulazione, quello che vuoi. In Italia non lo possiamo fare, tu sei il primo italiano che sento scherzare su, non so, il fisting per dire, no? Questo è un bene o un male? Nel senso ci dà una soglia che non possiamo oltrepassare e quindi quando lo facciamo far ridere? Oppure è un male perché non possiamo scherzare su queste cose? Domanda interessante, quindi mi metto in grosse difficoltà. Intanto rileverei su quel aspetto. La grande differenza culturale dal punto di vista comico-umoristico che c'è tra noi e il mondo anglosassone, nel senso che in Italia la comicità viene dalla commedia dell'arte, quindi una comicità di maschere bidimensionale, quindi il comico non ha mai una terza dimensione più introspettiva, è di stampo regionale e si fonda sui canovacci, quindi su un tipo di scrittura generica, passatemi il termine, non particolarmente precisa, mentre la scrittura comica di fatto poggia su delle regole codificate, tutto sommato, da una tradizione anglosassone. Quindi la stand-up comedy porta avanti una scrittura comica in primis tridimensionale, da qui l'esplorazione anche di altri temi. Sono stato a vedere, sono stato come dire anche a vivere all'ambiente dei comedy club negli Stati Uniti, eccetera, e lì ti capita spesso di incontrare comici che salgono sul palco e parlano di cose indicibili, però hanno, tra virgolette, una forza minore che qui, cioè, spiego, lì è normale che un comico che sale sul palco si possa permettere di dire l'indicibile, è accettato. Da noi ha una valenza trasgressiva, da loro no. Tant'è vero che da noi scontiamo un po', un po', il ritardo culturale, che basta che uno sale sul palco che dice una parola forte e subito attira una certa attenzione, vuoi critica, vuoi invece... Mentre invece lì non basta che i contenuti siano forti, devi far ridere tanto, che è un limite che spesso abbiamo con i comici, tra virgolette, che parlano sporco, come si suol dire, che spesso e volentieri salgono sul palco e si limitano a parlare sporco. E invece vi assicuro che la stand-up comedy, non a caso c'è la parola comedy, punta in primis alla risata. Ma lì c'è proprio una questione culturale, perché da loro l'umorismo viene anche insegnato nelle scuole di public speaking. Viene proprio lo strumento, viene indicato come uno strumento possibile per comunicare, per trasmettere informazioni, voi date a vedervi una qualunque TED conference, nove volte su dieci il conferenziere, anche se è un neurochirurgo, utilizzerà dell'umorismo, farà delle battute all'inizio. Da noi invece cosa ci viene detto? Non si ride di certe cose, perché ridere è ancora oggi culturalmente inteso come un atto di svilente, sminuisci. Tanto è vero che un comico in Italia, se vuole essere preso in considerazione, smette di far ridere e comincia a leggere Dante. Mentre negli Stati Uniti non ne hanno bisogno. Lui C.K. si ritrova con articoli sul New Yorker, molti lo indicano come un filosofo, e non rinuncia alle battute, fa ridere tantissimo. è proprio un'idea diversa che si ha dell'umorismo e della comicità. Altre domande o altre risposte? Anche se qualcuno ha delle risposte, gli passo il microfono volentieri. C'è qualcuno lì, c'è qualcuno lì. Facciamo prima le signore, la vecchia regola della cavalleria, poi vengo lì. Allora, innanzitutto grazie di stare qui. Poi volevo sapere cosa ne pensi degli obiettivi della televisione prima, quando ti sei messo nel sistema, diciamo, e degli obiettivi della televisione oggi. Cioè, allora, immagino che la televisione quando crea un programma abbia in mente un certo tipo di target che vuole raggiungere. Ecco, questo target è cambiato con gli anni o è rimasto sempre lo stesso? Allora, dunque, c'è la famigerata differenza fra la TV generalista e ciò che non sono le TV generalista, nel senso che la TV generalista dovrebbe avere come obiettivo, per TV generalista si intende i canali in chiaro, RAE, Mediaset, La7, ma oggi con il digitale anche altri editori, che quindi parlano a più persone possibili. È una TV includente, anche in maniera perversa, perché poi per includere la generalista ha lavorato sul cosiddetto minimo comun denominatore, quindi ha cercato in qualche modo di accomunare, prendendoci di solito appunto per gli istinti più bassi che tutti ci accomunano, in qualche modo. Mentre invece oggi la televisione è cambiata sia per quelle cose che dicevamo prima, è cambiato il consumo e in parallelo, un po' per causa, un po' per effetto, è cambiato anche il modo in cui certi canali si rivolgono al pubblico. Non solo esistono canali non generalisti, cosiddetti canali tematici, ma pensate anche già alla TV a pagamento, il satellite, io faccio un programma su Comedy Central, che è un canale che sta all'interno di Sky appunto, e come dire, quella TV è già una TV che stringe il proprio pubblico, già semplicemente per questioni di censo dal punto di vista economico, perché vuol dire che ti rivolgi comunque a un pubblico che bene o male può pagarsi un abbonamento a Sky. Quindi oggi fare la televisione detto così non vuol dire niente, dipende, bisogna sempre dire che cosa si fa e dove lo si fa, o meglio si stabilisce cosa si fa anche rispetto a dove si va. Il contesto fa anche quello che tu proponi. Ripeto, ci sta che un canale generalista, lo dicevo prima, parli al proprio pubblico e quindi eventualmente non faccia e trascuri determinati, un altro tipo di prodotto, però mi chiedo perché non fare altro su altri canali, su altre piattaforme per parlare a chi la generalista non parla. Lui. Non so se sto rispondendo alle vostre domande in realtà, ve lo dico. Grazie, ciao. Allora, ci hai detto che ci passerai con noi un po' di tempo nel corso di televisione, giusto? Spero di riuscire a specificare le domande un po', a suddividere anche meglio. Innanzitutto la domanda parte, allora noi che dobbiamo fare qui la televisione, se riuscireste a dirci cosa che faremo, cosa impareremo, quali sono le linee di guide nel mondo della televisione? Uno. Due, dato che diciamo che mi sembra che l'immagine di televisione, avere televisione o televisione pubblica o non pubblica, privata, quello che sia, forse mi sto sbagliando. Un po' si sta diminuendo, in senso si sta morendo. Hai già detto che è ben chiaro che la televisione abbastanza, i programmi che vengono fatti sono più per un certo pubblico da una fascia d'età, che magari dalla mattina alla sera non ha niente da fare, quindi per passare un po' di tempo Maria Di Filippi fa comodo, senza nessuna critica. Esatto. Quindi quello che voglio dire per te, qual è il televisione? Se noi volessimo chiederti qual è il televisione che funzionerebbe, che sarebbe per tutti o è il televisione più aperto il ruolo, cioè possiamo tutti infilarci nel mondo di YouTube o questo o quell'altro, a prescindere che è il mondo aperto, quindi si può fare. Però voglio dire, esiste ancora il televisione? Può esistere? Come si può fare? Sulle linee guida in realtà rimando a chi detiene la cattedra qui del college di televisione, non so indicarti esattamente come si costruirà, insomma questo sarà compito della scuola, ma rispetto alla mia personale idea di televisione, quello che muore è l'elettrodomestico, la televisione, o meglio, muore l'idea di palinsesto. Personalmente io penso che siamo, ma lo saremo sempre di più, nell'epoca dell'audiovisivo. Poi non lo so che cos'è, se è cinema, se è serie televisiva, se è programma, non so dove lo guardo, perché può darsi che ti guardo sul telefono, oppure che assisto a una proiezione pubblica, oppure ti guardo sul tablet, oppure ti ho registrato e ti vedrò. Io penso che i contenuti debbano essere resi accessibili, la tv per tutti non esiste, non può esistere, ma come non esiste niente per tutti? Poi io sono un intimista, quindi a me non piace parlare con tutti, perché riesco a parlare prima con te, poi con lei, e poi con lei, quindi non lo so. C'è un'ultima domanda, un'ultima risposta per concludere? Sì? Perfetto. Ciao, bellissimo spettacolo, mi è piaciuto molto. Quello che volevo chiedere, fantastico, l'abito è fantastico. Un'altra cosa, secondo te, noi oramai stiamo ricevendo molte censure in ambito televisivo, guardando la Rai e più recentemente YouTube, che ho scoperto che adesso sono evitate ogni tipo di parolacce e ho riferimenti di ogni genere. Secondo te stiamo diventando un pubblico più perbenista, perché vedo che ci sono comunque persone che guardano volentieri uno spettacolo dove c'è qualche parolaccia, però vedo che sta aumentando di più la parte perbenista e quindi secondo te questo genere, non so magari se si può chiamare anche cabaret, secondo te può morire e non so diventare più una satira più tranquilla. Allora, guarda, proprio perché la mia prima esperienza con la censura è stata quella che effettivamente vi ho raccontato, cioè con un funzionario della Rai che arriva e mi dice che non posso dire in televisione che in Italia il premier è italiano, io da lì a parte tutto ho tratto davvero un insegnamento, cioè che la censura non esiste, perché ti rendi conto da solo che questa cosa è talmente ridicola, talmente surreale che non esiste, è priva di alcun fondamento logico. La censura non esiste. Io personalmente ho fatto un servizio all'interno di un programma sulla Sette, qualche anno fa, che partiva dal fatto che i miei servizi commentavano alcune cose che cadevano all'attualità, di settimana in settimana, quella settimana era successo che hanno volato delle parole grosse in Parlamento, cioè un esponente del Movimento 5 Stelle aveva dato della Pompinara a un esponente del PD. No? Cose normali. E il mio servizio ruotava sul fatto che al di là di tutto, riprendendo la lezione di Lenny Bruce che diceva che le parole hanno una violenza che noi possiamo disinnescare usandole. Perché se io di un negro, cito Lenny Bruce, mi è andata a vedere anche il film Lenny con le interpretazioni di Dustin Hoffman, se volete, comincio a dire negro, 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 ebreo, 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 froscio, 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 pompinara, 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 a forza di dirlo, a forza di dirlo diventa semplicemente una polpetta sonora, quella parola perde di violenza. Io in quel servizio, partendo da ciò, ho detto credo 27 volte la parola pompini, è andato regolarmente in onda su un canale generalista alla 7, dopo le 11, d'accordo, va benissimo, non c'è stata alcuna protesta il giorno dopo, io l'ho fatto, è andato in onda, nessuno ha detto niente. Il famigerato dopo festival, che anzi ringrazio la RAI per quello che è successo, perché come avete visto l'ho trasformato in materiale, alla fine è andato, e se non è avvenuto un altro errore tecnico, forse lo trovate ancora sul sito della RAI, dovete cercare tantissimo di farvi aiutarvi da un hacker russo, però io l'ho fatto, poi si d'accordo, non mi hanno più richiamato a farlo, ma io ho detto, alla gente è piaciuto, la censura non esiste. La censura non esiste. È il motivo per cui ridicolizzo un po', spero si fosse capito, i famigerati martiri della satira, nel senso che oggi come oggi, capita ancora, ogni tanto succede qualcuno e dice, sono stato censurato, addirittura recente c'è stato un meteorologo che ha detto, non gli facevano più fare il programma sulle previsioni del tempo, perché era scomodo? Ora, sono il primo a pensare che ai piani alti ci sono dei menomati, però ragazzi, adesso il meteorologo che si innalza a paladino della libertà di informazione, mi sembra che anche qui il senso del ridicolo lo stiamo perdendo, anche perché oggi come oggi, veramente, la libertà di espressione, ora non so YouTube che mi censurano le parolacce, ma credo che rientri su una questione di filtri, cioè se tu dici che il tuo video può essere visto anche al di sotto dei 18 anni, probabilmente scatta qualcosa, ma insomma, sui social network ci insultiamo tutti allegramente in maniera proprio disinibita, scorrono fiumi di parole grosse più o meno legittimate, quindi no, mi sento di darvi questo messaggio, incontrerete in caso nella vostra vita dei censori, però sappiate che i censori esistono, la censura invece non esiste. Fine, questo è il messaggio che lascio alle generazioni future. Arrivederci. Grazie, ci vediamo presto.